Un'altra cosa che bisogna imparare è il mondo delle password, perché lì, ad esempio, sapersi proteggere, sapere che dobbiamo cambiarla spesso, lo sapete, no? Poi io vi metto in guardia sempre, sui miei social pubblico prevalentemente cose utili per le persone, ogni giorno pubblico delle informazioni sulle ultime tuffe che circolano, eccetera. E una delle cose più importanti è la password e fa parte proprio della... vedete, sapete perché ve lo devo dire io da qua e non è normale? Perché in altre cose c'è stato il passaggio generazionale, cioè quando sono arrivati gli automobili primi del secolo, nell'altro però, la gente veniva investita facilmente perché non sapeva che esistessero gli automobili, quindi camminava per strada così, no? E poi... e praticamente dopo un po' è normale, quindi quando tu cresci in famiglia ti dicono, ehi, non attenzione alla strada, sai? Dici, come mai? Perché passano le macchine? Ah, ok. E uno ci cresce con questa paura e quindi lo sa. Quando senti quel freddolino con l'ariettina qua che arriva qua, che noi facciamo, ah, non è niente, la nonna sa che poi ti viene la polmonite per quella roba lì, cioè, lo sa, e te lo dice, ok? Attento alla password, non darla a nessuno, ancora i nonni così non ci sono, e arriveranno, ce ne sono pochi, però non sono così. E allora lo devo fare io, ok? Quindi, attento alla password, dovete... non darla a nessuno! Ma nessuno, nessuno, nessuno!